Oggi dobbiamo ringraziare e fare un vero applauso a Restiglian Claudio che ha scritto un post Ieri sera intorno ai 18.15 su camperisti in sosta libera Overland Un gruppo, indovita un po', no non sono né fruttivendoli né ambientalisti integralisti, sono camperisti E ha raccontato di un weekend in cui hanno preso il loro camper Se ho visto bene un Safari Waze su Ducato Prima Serie Ducato Prima Serie sono sicuro, Safari Waze forse E mi sembra almeno così a vederlo E hanno fatto questo weekend Passato 28 tornanti, partiti con un bel tempo Arrivano sul Monte Grappa Pioggia, no nebbia, pioggia eccetera Ma c'è un museo che vogliono visitare E alla fine quello che gli scrive raccontando brevemente questo weekend Dice nulla ci ha impedito Nulla ci ha impedito E lì dentro in quel nulla ci ha impedito E soprattutto se andate a vedere com'è scritto questo post Che è brutto, è sgrammaticato Ma chi se ne frega? Mica deveva vincere il nove per la letteratura Doveva trasmettere le emozioni ed è questo che vale Quel post emozionante In quello che scrive trasuda tutta la contentezza Tutta l'emozione Tutta la voglia di dire Ma chi se ne frega? Noi intanto volevamo andare lì Sul Monte Grappa A vedere il museo A passare un bellissimo weekend A stare insieme Ce l'abbiamo fatta Non so se sono una coppia Se sono una famiglia Se sono amici Non c'è dato di sapere Però chiunque fosse lì In quell'abitacolo Lì loro erano in paradiso Ed è tutto il valore Del nostro modo di fare turismo Della nostra voglia di turismo in libertà Della nostra voglia di camper Di caravan Di tende Di campeggio Di tutto quello che è movimento Del non stare tra quattro mura di casa E lì Nell'emozione di questo Restiglian Claudio Vi invito ad andare a vedere Ciò che ha scritto Vi invito a commentarlo Perché veramente Ci si emoziona Nel leggere quello che ha scritto Carissimo Restiglian Claudio Bravo 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 E continua così Ecco Oh Vi lo dovranno dire E mi hanno detto no